Novità sulla partecipazione eucaristica dopo l'ultimo DPCM. Le novità dopo l'ultimo DPCM di Giuseppe Conte per quanto riguarda la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni della Santa Messa. Ne abbiamo parlato con il parroco di Chiaravalle, Don Roberto Celia. Ogni chiesa ha un numero di fedeli che possono partecipare in base all'ampiezza. Ad esempio noi qui in Matrice possono partecipare 110 persone, al santuario 100 persone. Ringraziamo Dio che noi abbiamo questa possibilità di questi grandi edifici. Basta notare nei banchi sono stati segnati dei posti, sono a un metro e mezzo di distanza e quindi c'è la possibilità che in tanti possono partecipare. Poi per quanto riguarda il decreto per i funerali, adesso da 15 persone si è passati che possono partecipare fin quanto c'è posto in chiesa. Qualcuno dice che magari è un po' rischioso, effettivamente sì perché si rischia che magari ci sia la massa. Però io penso di no perché sappiamo ormai per esperienza che qui da noi a Chiaravalle, ma come ogni paese comunque ha le sue tradizioni anche popolari, si partecipa soprattutto per le condoglianze. Ancora le condoglianze non si possono dare. Quindi questa è un'occasione proprio per riflettere, gustare proprio la partecipazione proprio come comunità cristiana accanto alla famiglia che sta vivendo e vive il dramma del lutto. C'è una cosa che mi piace sempre sottolineare che fa parte della mia educazione cristiana e che porto con me con grande gioia. Quando ero piccolo mi insegnavano al mio paese di origine e tuttora ancora so che sta mantenendo questa legge non scritta, come si sa dire. Quando moriva qualcuno e soprattutto se questa persona era un povero, non un povero materiale, ma diremmo quel povero culturale, quella povertà esistenziale, che magari non aveva nessun parente, non aveva grande famiglia, tutti dovevano partecipare come gesto di carità al funerale. Erano quelle occasioni in cui la chiesa era veramente gremita di gente. E questo è un bel gesto e spero che questo abbia portato a capire a tutti quanti noi l'importanza della presenza al di là dell'amicizia che uno può avere con i familiari o altro. Per quanto riguarda la comunione e il segno della pace? Allora, per quanto riguarda lo svolgimento della liturgia eucristica, continuano in essi il segno della pace, come nei funerali appunto non ci sono le condoglianze. Poi alla comunione e ai sacerdoti che scende e sta attento a usare i guanti, igienizzare le mani, portare la mascherina, senza evitare proprio che le persone si mettono in fila. Quindi deve evitare proprio che stiano attaccati. Le persone in chiesa devono venire usando la mascherina, ma soprattutto usando l'igienizzante che è in tutte le chiese. Già noi a marzo abbiamo messo i dispenser apposta per l'igienizzante ed è importante utilizzarlo. Una cosa che voglio sottolineare, non lo scrivevo già nell'articolo che uscirà per il nostro giornale parrocchiale, non siamo supereroi, pensando che noi non verremo mai colpiti da questa malattia e così via. Di fronte a certi virus non esistono i supereroi. Noi grazie a Dio abbiamo avuto pochi contagi, anche perché la Calabria non ha, diciamo, grandi punti di assemblamento di persone. Non è che, tolto la presenza soprattutto di tanti studenti sui Pullman o su altri mezzi di comunicazione o meno, non c'è granché di gente. Noi solo tre grandi città abbiamo, che messe tutte e tre insieme fanno un quartiere di Milano. Non è che abbiamo le metro che devi spingere per entrare o tram e così via. Quindi per dire da noi il contagio è stato di meno anche per questo motivo. Quindi questa è un'occasione per capire che non ci vuole niente che si diffonde il virus. Soprattutto adesso che magari si ricomincia la battuta che diceva Conte, non significa liberi tutti. Qui dobbiamo veramente mettercelo bene in testa. Non è liberi tutti. Poi per quanto riguarda anche la messa, tutto dipende anche, diciamo, sulle nostre spalle come parrocchia, igienizzare prima, igienizzare dopo, celebrare con le porte aperte, adesso che viene l'estate viene anche più comodo, cercare di evitare soprattutto, non tanto all'entrata, questo succede più all'uscita, di non uscire tutti insieme. Perché se io devo stare attento a un'ora di celebrazione, diciamo, a non evitare di stare accanto a una persona e poi lo faccio in un secondo, effettivamente questo si può evitare. L'unica che presenta problemi è la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù? Più in altro non solo perché è piccola, lì c'è soltanto un'entrata e quindi non crea neanche far girare l'aria, come si dice o meno. Poi non solo questo, è complicato come Chiesa, diciamo potrebbero andare poche persone e celebrare e poi mettersi fuori e dire tu puoi entrare perché sei arrivato prima, tu non puoi entrare perché sei arrivato dopo, sinceramente non mi sembra una cosa tanto bella. Poi grazie a Dio per dire che Chiesa ne abbiamo e poi la distanza tra la matrice e il Sacro Cuore sono 500 metri neanche. E vogliamo ricordare le celebrazioni sia qui che alla foresta? Allora praticamente si fa in questo modo, si continua a celebrare la mattina alle 8 al santuario, la sera alle 19 qui in matrice. Il sabato, la mattina alle 9 al santuario e alle 19 al santuario, come si è fatto sempre anche in inverno. La domenica rimangono le messe, come abbiamo celebrato per l'inverno, alle 8 al santuario, alle 9 alle 11 qui in matrice e alle 19 al santuario. Poi ci sono anche le messe a convento, la domenica, alle 7 e mezza, alle 9 e mezza. Anche se i posti sono stati accorciati nelle Chiese, non c'è problema che non abbiamo posti per entrare. Magari avessimo questo problema. Anche perché poi c'è un'altra cosa importante. I riusciti di decreto, e questo è anche importante, che se si celebra all'aperto si possono fare anche fino a mille persone. Questa è un'idea che stiamo già iniziando a pensare per quanto riguarda l'estate. In modo particolare stiamo già organizzando con il gruppo del Comitato Festa come organizzarci per l'estate alla Madonna della Pietra. Per adesso non ci esprimiamo più di tanto, perché dobbiamo ragionare messe per messe, in base a decreti che escono, in base a come ci comporteremo in questa fase 2. Perché si aumentano i contagi e si torna indietro. E qui bisogna stare attenti. Abbiamo fatto 10 passi in avanti, cerchiamo di non farne 100 anni indietro. Qui bisogna veramente pensare. E noi proprio per l'amore di festeggiare insieme alla Pesta, alla Madonna della Pietra, adesso è un momento in cui dobbiamo veramente stare più attenti. Bisogna lavorare, bisogna riprendere a lavorare, però nello stesso tempo agire sempre su ciò che è necessario. Magari tante cose se è possibile rimandare, se è possibile, questo lo capisco, che magari uno vorrebbe una certa libertà, vorrebbe tante cose o meno. Però quando abbiamo a che fare con certi virus che neanche conosciamo, dobbiamo sapere come agire. Una cosa che mi dispiace purtroppo è che non posso fare la vista degli ammalati, ma non per me. Mi dispiace per loro, perché è bene che loro non abbiano contatti con l'esterno. Se è urgente vado tranquillamente, non ho problemi. Però giustamente la paura è che loro interagiscono con agenti esterni. So che tutti gli anziani sono stati veramente accorti. Adesso, magari un periodo un po' particolare, aspettiamo che alla prima occasione che possiamo fare la visita, naturalmente andremo subito a trovarli.